L'orrore è quello di un cadavere dilaniato dalle coltellate lasciato in un bagno di sangue all'interno dell'appartamento del suo ex fidanzato, fendenti sferrati con violenza quasi a fare scempio di questo povero corpo. E' stata trovata così, Céline Frey Mazzol, 21 anni e una vita davanti, una vita interrotta dalla ferocia del suo aguzzino che si è scagliato contro di lei con violenza cieca martoriandola in diverse parti del corpo. L'ennesimo femminicidio, il settantatreesimo in Italia, solo quest'anno e il terzo in Trentino Alto Adige, questo mese dopo le due donne uccise a Rovereto, scuote la piccola comunità di Silandro, uno dei tanti paesini della tranquilla Val Venosta, dove l'italiano cede il passo al tedesco, dove solo le montagne separano dalla vicinissima Austria. E proprio lì al confine è stato arrestato il presunto omicida della giovane, il suo ex fidanzato Omer Cim, 28enne di origine turca, che stava cercando di fuggire e varcare il confine attraverso il passo Resia. I carabinieri hanno dovuto sparare alle gomme della sua auto per fermarlo, l'accusa per lui è quella di omicidio. Ma ci sono ancora tante domande alle quali dovrà rispondere per capire cosa l'abbia portato a distruggere questa vita, domande alle quali in parte l'autopsia potrà rispondere e fornire l'ora e la causa esatta della morte, capire quale delle tante coltellate sia stata fatale se la ragazza ha cercato di difendersi. Pare che l'uomo si fosse licenziato per pedinare la povera Selina. A far scattare le indagini sono stati i genitori della ragazza, che sabato si erano presentati in caserma per denunciarne la scomparsa. Da qualche giorno infatti non dava più sue notizie, questo aveva insospettito la coppia. Non ci è voluto molto per gli investigatori per arrivare a casa dell'ex o un appartamento al secondo piano di un condominio, dove si sono trovati davanti alla terribile scena dell'omicidio. Sul posto anche il coltello, probabilmente usato per ucciderla. A quel punto sono scattate le ricerche a tappeto su tutta l'area per rintracciarlo, con l'utilizzo anche di un elicottero che ha sorvolato l'intera zona. La sua auto è stata avvistata non lontana dal lago di Reisi, stava cercando di darsi alla fuga di nascondersi in Austria e far perdere le proprie tracce. I carabinieri però sono riusciti a fermarlo, come detto sparando ai suoi pneumatici. Contemporaneamente i militari dell'arma stavano procedendo ai rilievi nell'appartamento dell'uomo. Sul caso indaga la procura di Bolzano che cercherà di dare risposta ai tanti quesiti di quello che tutti in paese definiscono un orrore.